Musica Benvenuti ad una nuova puntata di Fiori e piante della montagna bellunese, buongiorno Ettere Ciao Giorgia Oggi volevo farti una domanda legata a Darwin, un personaggio famoso, un ricercatore che ha speso molto tempo della sua vita a fare ricerche sugli animali ma se non sbaglio anche sulle piante Certo che ha fatto anche sulle piante, lui si è interessato un po' a tutta l'evoluzione delle varie specie, sia animali sia vegetali Nel suo libro più famoso, infatti, dal titolo L'origine della specie, scrive diverse sue riflessioni sulle forme vegetali che vediamo nelle immagini e cioè il Litrum salicaria Egli aveva notato che queste piante presentavano degli stili di tre lunghezze, diversi in tutti gli esemplari osservati Una condizione trimorfa, molto singolare, che favoriva comunque la fecondazione incrociata, evitando l'autoimpollinazione La salicaria, come viene chiamata comunemente, è diffusa in tutta Europa e quindi anche nella nostra provincia dove colonizza le zone umide e le sponde di corsi d'acqua La pianta, che può raggiungere il metro di altezza, presenta i fiori sessidi riuniti in fiorescenze con i petali di una bella colorazione rosata Le foglie, molto numerose, sono simili a quelle del salice, da qui il nome di salicaria, dato alla specie Quello del genere, invece, ci viene dal greco litron, che significa sangue e allude, naturalmente, alla colorazione dei suoi fiori Il frutto è una capsula ricca di semi, che generalmente vengono disperse mediante l'acqua Ettore, scusami, ma è vero che la salicaria viene usata anche per i suoi poteri officinali? Sì, questo sì, è vero, fin dall'antichità, tra l'altro Pensa, Giorgia, che la nostra salicaria fu impiegata per secoli per le sue proprietà stringenti contro la disenteria E si legge che durante la Prima Guerra Mondiale Venne utilizzata dalle truppe tedesche nella terapia della febbre da tifo Sembra anche che nella Siberia orientale i giovani germogli venissero consumati come verdura Mentre le foglie essiccate si adoperavano per realizzare bevande in sostituzione del tè Si tratta anche di una pianta molto decorativa, sia quando è in fiore, sia quando, a tarda estate, comincia a seccarsi E le sue foglie diventano di un bel rosso luminoso che può durare anche per due settimane Si tratta di una specie cosmopolita largamente diffusa tanto nel vecchio continente che nell'America del Nord e in Australia In Europa il suo areale giunge al nord fino all'Olanda e interessa tutto il territorio italiano, comprese le isole Nel belunese è decisamente comune negli ambienti umidi di fondo valle Diventando progressivamente sempre più rara man mano che si sale in zone basso montane E anche per oggi è davvero tutto, ricordatevi che le puntate di Fiori e piante della montagna belunese Sono in onda quotidianamente dal lunedì al sabato su Telebelluno Ma poi disponibili sempre su Youtube all'indirizzo 10 e Lode Produzioni Ettore, alla prossima! Alla prossima, ciao Giorgia!